Giovedì, 24 novembre Ma il 24 è giovedì o venerdì? È giovedì Giovedì, 24 novembre, a Stazione Birra Mazza, è figo che posto, no? Ci sarà la Coldplay Night La Coldplay Night Che mi hai chiamato? La Coldplay Night Vi aspetto Certo è detta così, sembra che c'è sto via la cassa Boh 24 novembre, a Stazione Birra Coldplay Night Stai guidato Stai guidato Stai guidato Stai guidato Stai guidato